Non sono della Lega, resto al centro, valuto i programmi e i progetti per il territorio. Il presidente della provincia, Domenico Biancardi, presente ieri a Napoli per la visita di Salvini, smettisce dunque di essere salito sul carroccio. Sono stato invitato da alcuni amici, sono sempre pronto ad ascoltare. La mia attenzione è tutta puntata sui contenuti che vengano da destra o da sinistra. No, io sono del territorio e quindi sono attento piuttosto in questo momento a valutare ipotesi di programmi sul territorio nostro per le aree interne e quindi è il momento piuttosto di dare attenzione a chi oggi vuole guidare la Regione Campania. Quindi che sia di destra che sia di sinistra, io sono stato sollecitato chiaramente da un amico per essere presente ieri da Salvini, ho avuto quindi questo incontro, ma semplicemente perché ho detto che bisogna prestare molta attenzione alle aree interne e quindi anche all'Irpinia. Biancardi dunque non si schiera ancora né col centro-destra né col centro-sinistra. Di certo annuncia non si candiderà alle regionali. Il presidente auspica un fronte comune della politica irpina per mettere a punto un progetto di sviluppo per le aree interne. Io non sono candidato per le regionali, attenzione, quindi l'ho detto e lo ribadisco. L'ho detto anche ieri a Salvini, quindi io non sono uno che si candida, però sono uno che vuole vigilare sul territorio e vuole creare questa allarme per chi ha intenzione piuttosto di candidarsi. Oggi abbiamo visto che non è una questione politica, come abbiamo notato anche nelle altre regioni quello che sta accadendo. Noi vogliamo però avere l'attenzione che merita l'Irpinia e quindi io sfido piuttosto anche gli altri candidati alle regionali a capire che è il momento giusto questo di oggi di poter creare attenzione sul nostro territorio. Noi siamo fermi, siamo proprio fermi, l'Irpinia è ferma, così come Benevento è ferma e quindi abbiamo bisogno piuttosto di creare questa enorme attenzione sul nostro territorio. Grazie.